Stamattina ho creato una nuova community intitolata il dubbio, proprio per esprimere i tanti dubbi che nella vita nascono dopo averla vissuta. In un mondo dove le persone, molte, spesso ti fanno credere di essere quello che non sono, e le parole vengono usate soprattutto per fare i propri interessi, nascondendo tante fregature. In un mondo dove noi non abbiamo nessuna certezza, è legittimo, bisogna avere il dubbio dentro di sé, perché spesso dietro una bella siepe, come ci fanno credere, con le belle parole, si nasconde qualcosa che non è molto bello, non è quello che ci fanno credere. Un esempio pratico è proprio questa siepe che stavo inquadrando, che c'era dietro, dentro, il cesso per i cani. Ecco, il dubbio serve per capire che dietro le parole non ci sia un ingannevole imbroglio che poi ci lascia una grande amarezza e delusione nel cuore, soprattutto nella mente e nell'anima. Questa community è soprattutto fatta per coloro che vogliono smettere di essere trattati come dei piccioni. Siamo esseri intelligenti e della nostra intelligenza dobbiamo fare l'arma migliore per poter vivere bene ora. E poi chissà, forse se ci sarà un dopo esistere, ma questo, come il creatore sa, viene dopo.